Love is in the air. Trama puntate, mercoledì 2 febbraio 2022. Burak è costretto ad accettare le dimissioni di Melo e iFair, anche se malvolentieri. Subito dopo averlo fatto però al ragazzo vengono in mente dei flashback della serata in cui era ubriaco e aveva baciato Melo. Burak però finisce per fraintendere completamente la situazione. Ricordando quanto accaduto in maniera soltanto frammentaria, Burak si convince di aver baciato Melo senza suo consenso e che per questo la ragazza sia delusa e spaventata da lui. Naturalmente il giovane è molto lontano dalla verità. Aidan cerca disperatamente di far incontrare Serkan e Kemal, ma Bolat ha scoperto soltanto da pochi giorni della relazione che intercorre tra l'uomo e sua madre. Per questo motivo Serkan è furioso. L'architetto ribadisce alla madre di non voler avere nulla a che fare con il suo patrigno, considerando che non è in buoni rapporti neppure con suo padre. Aidan comprendendo di non poter far incontrare Serkan e Kemal in maniera naturale e spontanea, decide di organizzare un falso incontro casuale. Attraverso una serie di coincidenze, la donna cerca di pianificare un confronto, ma ogni tentativo è vano e Serkan e Kemal non riescono mai a vedersi e a incontrarsi. I due uomini iniziano anche a trovare strano l'atteggiamento di Aidan. Grazie a tutti.